Il mare 1538 Capitolo 41 Ambersa 29 maggio 1538 Alba accennata, cielo color piombo, i pensieri si infilano sotto il sonno e tirano via le coperte. Kathleen dorme, spettacolo incredibile di capelli e bocca e respiro tiepido, alzarsi piano per non svegliarla. Gelo del primo mattino che ingobbisce, prende le viscere, avvolge in una grande pelle di montone, mentre trascini i piedi in cerca del secchio dove pisciare e di un po' d'acqua per estrofinarti gli occhi e di un goccio di latte caldo che ti faccia rinascere. Gli anni sono passati. Alzarsi dal letto non è facile come un tempo, qualche volta al freddo colpisce gli arti, reumi che tagliano i movimenti all'improvviso ti segnalano che la corda è rimasta attesa per troppo tempo. Muscoli e acciacchi si stringono insieme e ti dicono che il quinto decennio della vita dovrei spenderlo con parsimonia se non vuoi restare piegato dentro un letto prima che la ragione t'abbia abbandonato. Fine miserabile quella, terribile. E allora restare. Restare qui, troppo vecchio per imparare un mestiere e troppo stanco per riprendere a lottare. Forse il bulino o il tornio, ma la spada no. Quella la lascio alla ruggine del canale in cui l'ho gettata. Musica Magda osserva in silenzio, gli occhi spalancati dalla curiosità, mentre infilo l'ultimo perno tra il braccio e la spalla del burattino snodabile. Per chi è? Domanda scuotendo i ricci con istintiva civetteria. È per voi bambini? Rispondo. Però tu sarai la sua mamma, va bene? Sì! Un acuto che perfora le orecchie e lo schiocco di un bacio sulla guancia irsuta. Nessuna bimba mi ha mai baciato. Eloi guarda e sorride mentre avanza tra le colonne del porticato. Non fa in tempo a salutare che Magda gli saltella di fronte sventolando il pupazzo di legno. Guarda, guarda, l'ha fatto Lot. Eloi si avvicina per muovere le braccia del burattino. È tuo? È di tutti i bimbi. Risponde Magda come le è stato insegnato. Però lo baderò io. L'ho tappato anche i cucchiai e le scodelle per la mamma, sai? Eloi annuisce mentre la piccola corre a mostrare a tutti il nuovo giocattolo. Un pensiero ad alta voce e un gesto delle braccia. Ecco la mia avventura. Negli ultimi dieci anni non ho fatto altro. Ironico. Una cosa da poco? Non so se è da poco o da molto. Certo la mia storia non è all'altezza della tua. Gli tendo la mano con un ghigno. Se vuoi fare cambio, chiudiamola a fare in un batter d'occhio. Mi guarda serio. No, non è il tuo passato che voglio. Soltanto capire per quali strane alchimie quello che tu hai vissuto non mi ha mai coinvolto. E viceversa. Bene, e se ci riesci, prova anche a spiegarmi come mai non c'è niente di simile a questo nel mio passato. Magda, Kathleen, questo posto. Siamo nati e cresciuti in due mondi diversi, lot. Da una parte i signori, i vescovi, i principi, i duchi e i contadini. Dall'altra i mercanti, i ricchi banchieri, gli armatori, i salariati. Anversa e Amsterdam non sono Mülhausen e non sono nemmeno Mülsta. Questa città è il porto più importante d'Europa. Non c'è giorno che non si carichino intere navi di lana, seta, sale, razzi, spezie, pellicce e carbone. In trent'anni i mercanti hanno trasformato le loro botteghe in agenzie di commercio. Le case in palazzi. I battelli in navi d'alto cabotaggio. Qui non c'è un ordine antico e ingiusto da mettere sotto sopra e non ci sono bifolchi da insediare sui troni. Non c'è da fare nessun apocalisse perché è già in atto da un pezzo. Lo interrompo con una manata sul ginocchio. Ecco dove ti ho sentito nominare per la prima volta. Fu Ioanne Stenka Mülhausen a parlarci del modo in cui seducevi i mercanti delle tue terre. L'avevi convinto che senza il denaro in città non si combina nulla. Eloi tira fuori una moneta e la rigira tra le mani, la lancia in aria e la riprende più volte. Vedi, il denaro non lo puoi rovesciare, comunque lo giri, ti mostra sempre una faccia. So chiude gli occhi per godere del raggio di sole che filtra tra i rami mentre cerca di trovare un ordine, un punto di partenza per il suo racconto. Sorride. All'inizio pensavo a qualcosa sul modello delle comunità utterite. Quei pazzi dalle parti di Nicholsburg. Proprio loro. Vivono completamente isolati dal resto del mondo e pretendono di bastare a se stessi. Con enfasi studiata ruoto tutto il busto verso di lui, visibilmente sorpreso. Sul denaro non direbbero certo le stesse cose che hai appena sostenuto. Cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Cerca le parole. È difficile, capisce che deve prenderla alla larga, forse anche rischiare di perdersi nelle volute di un discorso troppo vasto. L'Apocalisse non è un obiettivo da raggiungere, è in mezzo a noi. Negli ultimi venti anni ho sentito tanto gridare all'Apocalisse che se oggi venisse davvero ci vorrebbe del bello e del buono per riuscire a distinguerla dalla sorte quotidiana riservata agli uomini. Essere puri non significa separarsi dal mondo, condannarlo per obbedire ciecamente alla legge di Dio. Se vuoi cambiare il mondo degli uomini, devi viverlo. Mi alzo per attingere acqua dal vecchio pozzo al centro del cortile, la schiena duole tutta mentre tiro la corda per sollevare il secchio. Guardo Eloi. Se non mi avesse detto che è la mia età, l'avrei creduto molto più giovane. Se vuoi convincermi che Battenberg era un pazzo, puoi risparmiarti la fatica, lo so da me, ma forse non aveva idee molto diverse dalle tue. Credeva che gli eletti fossero già puri, incapaci di peccare. Pensava di essere già in piena Apocalisse. Per questo uccideva e sgozzava, senza pensarci due volte. Sorsigge l'acqua fresca. In colui che esorcizza negli altri il disprezzo che nutre per se stesso per le proprie sconfitte, in colui che colpevolizza e giudica per non essere né giudicato né colpevole, c'è un prete che, anche se vuole nascondersi, gracchia ancora tra i corvi della vecchia fede. Chi mostra abbastanza intelligenza per capire il mondo e troppo poca per imparare a vivere, non può sperare in qualcosa di diverso dal martirio. Turna a sorridermi. Io non ho mai parlato di eletti. Ho soltanto detto che ognuno può scoprire in sé lo spirito di Dio, che è libero. È straneo a qualunque codice, incapace di nuocere. Ho detto che il peccato è nella testa del peccatore. Comincio a capire. Continua sereno. A vent'anni credevo che Lutero ci avesse regalato una speranza. Non ci ho messo molto a capire che l'aveva subito rivenduta ai potenti. Il vecchio frate ci ha sbarazzati del Papa e dei Vescovi, ma ci ha condannato a espiare il peccato in solitudine, nella solitudine dell'angoscia interiore, ficcandoci un prete dentro l'anima. Un tribunale nella coscienza che giudica ogni gesto che condanna la libertà dello spirito in nome dell'inespiabile corruzione della natura umana. Lutero ha strappato ai preti il vestito nero soltanto per ricucirlo nel cuore di tutti gli uomini. Prende fiato giocherellando coi truccioli di legno per terra. Ha davvero voglia di dirmi tutto, quasi volesse ricambiare il mio racconto. E io ho voglia di ascoltarlo. Vorrei che tu capissi che io e te siamo partiti dalla stessa delusione. I stessi che hanno voluto riformare la fede e la Chiesa hanno riformato anche il vecchio potere, gli hanno fornito una nuova maschera. Le speranze di voi anabattisti erano legittime, sbugiardare Lutero e proseguire laddove lui si era fermato. Ma la vostra visione della lotta vi faceva dividere il mondo in bianco e nero, cristiani e anticristiani. Scuote la testa. Una visione del genere serve per vincere una battaglia giusta. Ma non basta per realizzare la libertà dello spirito, al contrario, può costruire nuove prigioni dell'anima, nuovi ricatti morali, nuovi tribunali. Il senso di tutto questo è contenuto nella storia che mi hai raccontato. Mattis Rothman Bokelson Battenberg La differenza tra un papa e un profeta è solo nel fatto che si contendono l'un l'altro il monopolio della verità, della parola di Dio. Io penso che quella parola, ognuno debba poterla trovare da sé, sono rimasto fuori dalla contesa e ho lavorato per questo. Spazia con un gesto a comprendere il cortile che ci circonda. Non credere che sia stato facile. Ho rischiato più volte di essere incarcerato e per molti anni ho dovuto condurre una vita clandestina. Kathleen me ne ha parlato. Annuisce. Sono anche stato processato un paio di volte, bilipendio delle leggi municipali e raggiro ai danni di un mercante di tessuti. Me la sono cavata, merito del fatto che molta gente in giro per l'Europa ha usato il mio nome, compreso il vecchio Tank, pace all'anima sua. Mi sono trovato sempre in luoghi diversi da quelli in cui le autorità mi avevano segnalato, in questo io e te ci somigliamo molto. Penso a quanti sono stato fino a questo momento, ma non riesco a ricordare il numero esatto. Io sono stato molti e molti sono stati te. Sì, la differenza è minima. Ci sediamo sui gradini fianco a fianco, quasi istintivamente, raccolgo un legnetto e mi metto a intagliarlo col temperino. L'odore intenso del muschio che cresce ovunque nel giardino è ubriacante, mi piace. Ricorda le foreste della Germania. Mi accorgo che vuole andare avanti, dirmi qualcos'altro, qualcosa per cui ha aspettato molto tempo. Da inversa tutto appare più chiaro. Anche un piccolo copritetti come me può rendersi conto di un sacco di cose che altrove non si lascerebbero notare. Ho imparato a leggere e scrivere, ho imparato a parlare, frequentando i mercanti di questa città, seducendoli alla vita libera e felice. Ma soprattutto ho imparato cosa muove il mondo, gli uomini, le religioni. Vedi, da qui passano mercanti di tutti i paesi, arrivano e ripartono mercanzie di ogni genere, il rame polacco diretto in Inghilterra e Portogallo, le pellicce svedesi per la corte imperiale, l'oro dal nuovo mondo che viene elaborato dagli artigiani locali, la lana inglese, i minerali delle cave boheme. Questi traffici fanno lavorare un numero incalcolabile di persone, commercianti, armatori, marinai, artigiani, facchini e naturalmente soldati, a garantire la sicurezza delle vie, a conquistare nuove terre, a sedare le rivolte. La vita di interi paesi e popolazioni gravita intorno al commercio. L'impero di Carlo V, senza il commercio dei Paesi Bassi, non starebbe in piedi. I Paesi Bassi sono il polmone dell'impero, la maggior parte delle tasse, Carlo, le preleva da queste terre, anzi, da questi commercianti e artigiani. È per questo che sono in rivolta fiscale contro l'imperatore? Esattamente. Sono stanchi di finanziare le sue guerre e lo sfarzo improduttivo della sua corte. Estrae ancora la moneta e la lancia in aria riprendendola al volo. Pagare gli operai, trasportare i prodotti, armare una nave, assoldare un equipaggio, mettere in piedi un esercito che difenda i carichi dai pirati, tutto questo puoi farlo con una sola cosa, il denaro. Non so perché, ma quando pronuncia quella parola, ho come un brivido quello che ti dà una verità scontata eppure sempre agghiacciante. Tutti dipendono dal denaro, i mercanti come l'imperatore, i principi quanto il papa, il lusso, la guerra e il commercio. Si ferma come avesse avuto un'idea improvvisa. Se hai finito di intagliare burattini, vorrei farti vedere una cosa. Lo guardo perplesso, si alza, mi facendo di seguirlo. Vieni, due passi ci faranno bene. Questo è il porto in cui circola la maggior quantità di merci di tutta Europa. Stazioniamo davanti a un grande mercantile a tre alberi, il via vai di caricatori sulla passarella è impressionante, sacchi in spalla per uno sforzo che sembra sovrumano. Il molo è affollato di uomini in trattative fitte, di marinaie e reclutatori, intravedo a distanza una pattuglia di spagnoli e ho un sussulto. No, no, tranquillo, in mezzo a questo marasma non puoi essere riconosciuto, non è gente che cerca rogna quella. Vivi e lascia vivere, è la loro scuola. Tu sei stato sfortunato, sei finito in mezzo a una rappresaglia, vieni. Eloi mi porta davanti a un piccolo locale in muratura con un'insegna scolorita. Non riesco a leggere, non ho mai imparato bene la lingua scritta di queste terre. Quella è un'agenzia di cambio. I mercanti possono cambiare le loro monete inglesi, svedesi o dei principati tedeschi in fiorini o qualsiasi altra moneta corrente a seconda di qual è il paese in cui hanno concluso i loro affari. La moneta cambia, ma il denaro è sempre lo stesso, non importa quale profilo ci sia stampato sopra. Ci spostiamo verso un grande edificio di tre piani, questa volta riesco a leggere la scritta Casa dei mercanti e degli armatori. Qui i mercanti decidono quali imprese intraprendere, quali possono essere gli affari più convenienti. Scomitiamo per uscire dalla bolgia, le lingue e i dialetti di mezza Europa ci attorniano come un unico canto incomprensibile, una babele al contrario in cui tutti sembrano capire tutti. Vedi quei carri? Vengono dagli egi, trasportano tessuti di lana lavorati del Condru. Vengono stivati su queste navi che a loro volta reimportano in Inghilterra la lana che i mercanti di Anversa hanno acquistato dagli allevatori inglesi. Ma è assurdo! Eloi ride forte. No, è profitto! Forse un giorno gli inglesi si accorgeranno che è più conveniente per loro sviluppare le officine tessili in casa propria, ma per il momento funziona così. Proseguiamo allontanandoci dal canale verso l'interno della città attraverso viuzze strette dove i raggi del sole non riescono ad arrivare. Tutto il meccanismo è mosso dal denaro. Senza il denaro non si solleverebbe un'ago da Anversa e forse in tutta Europa. Il denaro è il vero simbolo della bestia. E con questo cosa vorresti dire? Ci fermiamo vicino a un chiosco che vende cavoli e salsicce affumicati. L'odore penetrante ci avvolge. Come credi che Carlo V sia riuscito a farsi alleggere l'imperatore nel XIX? Pagando. Ha comprato ai principi elettori. Qualcuno gli ha messo a disposizione una quantità di denaro maggiore di quella che aveva offerto Francesco di Francia. E la guerra contro i contadini? Qualcuno ha prestato ai principi tedeschi il denaro per equipaggiare le truppe che vi hanno sconfitti. E come pensi che Carlo V finanzi la sua guerra in Italia contro i francesi e le spedizioni contro i pirati saraceni e la campagna contro il turco in Ungheria? Forse credi che i mercanti di qui abbiano a disposizione somme così grandi per armare le loro spedizioni commerciali? Neanche per sogno. Denaro. Fiumi di denaro che viene prestato in cambio di una percentuale sugli utili. Così funziona, amico mio. La domanda la sta aspettando da un pezzo. Chi possiede un simile patrimonio? Guarda dritto davanti a noi poi punta l'indice sull'edificio che ci sta di fronte e mormora. Le banche. Ora capisci dove si annida l'anticristo che hai combattuto per tutta la vita. Lì dentro. Indico l'edificio imponente che ci fronteggia. No, nelle borse che passano di mano in mano in giro per il mondo hai lottato contro i principi e i possiedenti. Ti sto dicendo che senza il denaro quelli non sarebbero niente. Li avreste sconfitti da un pezzo. Invece c'è sempre un banchiere che regge loro il moccolo finanziandone le iniziative. Vada per le imprese commerciali ma cosa ci guadagna un banchiere a finanziare una guerra contro i contadini? E me lo chiedi. Che tornino a lavorare i campi dei loro signori a scavare nelle loro miniere. Da quel momento di tutto quello che viene prodotto i banchieri otterranno una parte cospicua. Vedi Carlo V e i principi sono un ceto di parassiti che non produce niente ma ha un bisogno enorme di sperperare denaro. Guerre, corti, concubine, figli, tornei, ambascerie. L'unico modo che hanno di saldare i debiti che contraggono con i banchieri è di fare loro delle concessioni, di lasciare a loro l'usufrutto di miniere, opifici, terre, regioni intere. In questo modo i banchieri sono sempre più ricchi e i potenti sempre più dipendenti dal loro denaro e un circolo vizioso. L'aria sorgnona di Eloy non lascia dubbi sul fatto che si sta divertendo a dipingermi il mondo dal suo punto di vista. acquista una salsiccia fumante e ci soffia sopra prima di azzannarla. Indica la banca. Avrai certo sentito nominare i Fugga di Augusta, i banchieri dell'impero. Non c'è un porto in Europa dove non ci sia una loro filiale. Non c'è commercio in cui non ci sia una loro anche minima partecipazione. I nostri mercanti sarebbero persi senza il denaro che i Fugga mettono a disposizione per finanziare i loro viaggi. Carlo V non sposterebbe un solo soldato se non avesse un credito illimitato presso i loro forzieri. Del resto, l'imperatore deve ai Fugga la sua corona, la guerra contro la Francia, la crociata contro i turchi, il mantenimento di tutte le sue puttane. Li ha ricambiati donando loro l'usufrutto delle miniere ungheresi e boeme, la riscossione delle tasse in Catalogna, il monopolio dell'estrazione mineraria nel nuovo mondo e chissà cos'altro. La salsiccia punta verso l'edificio che si erge lì davanti. Credimi, senza i Fugga e il loro denaro quell'uomo sarebbe in rovina da un pezzo. Ruota la testa in tutte le direzioni. E forse tutto questo non esisterebbe. Si pilucca le dita unte con l'aria più naturale del mondo. Faccio qualche passo verso il centro della strada, scruto la costruzione anonima, massiccia. Poi mi guardo intorno un po' confuso. Sentimenti opposti mi si accavallano dentro, rabbia, stupore, anche ironia. Mi fermo e ad alta voce butto fuori tutto quanto. perché nessuno mi ha mai parlato delle banche? di 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 Grazie a tutti.